Amici sportivi, pugni chiusi e pronti alla rissa! Sta per cominciare una nuova puntata di WWE Raw! Dopo il litigio furibondo della scorsa settimana, oggi Bayley e Sasha Banks sono costretti a frequentare uno psicologo che dovrebbe aiutarle a migliorare i loro rapporti. Riuscirà a illuminare Scovato da Court Angle a sancire la pace? Oppure tra le due i rapporti sono ormai insanabili? Un altro fronte caldo è quello relativo al titolo intercontinentale con Seth Rollins che sette giorni fa ha sconfitto il campione Dolph Ziegler ma solo per squalifica. Un verdetto che secondo tutti dovrebbe garantirgli un'altra rivincita con la corona in baglio. Ma sarà davvero così? Oppure Dolph troverà il modo per negargli tale opportunità? Resta peraltro in alto mare il main event di Extreme Rules dopo i problemi contrattuali tra la WWE e Brock Lesnar. Chi diventerà il primo sfidante al titolo di campione universale? E soprattutto il sindaco di Suplex City si presenterà per difendere la cintura? Oppure preferirà fare ancora una volta i suoi orgi comodi? Chiudiamo le anticipazioni ricordandovi che in azione avremo molti altri vostri beniamini. Sei pronto col polso Fred? Vai! Ti sei allenato in settimana? Vai tantissimo! Tra di loro figurano Braun Strowma, Ember Moon, Matardi e Finn Belor! Ok ragazzi, tra poco si parte qui su Sky Sport Arena. Arena! E' tempo di WWE Raw! E vai! A carina!